Siamo giunti al Natale 2020, un momento abbiamo vissuto un anno particolare, molto diverso dagli altri, condizionato da una pandemia che ha creato tantissimi problemi, tantissimi lutti, tantissimo dolore a tante famiglie. In un momento come questo, solenne come le festività natalizie, non possiamo non unirci a un pensiero a queste famiglie colpite duramente da questa situazione. Allo stesso tempo voglio augurare a tutte le famiglie dei colleghi, in particolare ma a tutte le famiglie della nostra provincia, la vicinanza del collegio dei geometri della provincia di Avellino, mia personale, di tutto il consiglio direttivo, a tutti, alle famiglie della comunità dei geometri, ma ripeto, a tutte quante le famiglie della nostra provincia. voglio chiudere questo piccolo messaggio di augurio sentito di cuore a tutti quanti che il Natale è il tempo delle speranze e non delle paure e con questo augurio io abbraccio voi tutti e tutte le vostre famiglie augurandovi un Natale sereno davvero a tutti quanti voi. Un abbraccio dalla comunità dei geometri. Siamo un abbraccio dalla comunità dei geometri. E il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info